Il nostro viaggio in Belgio continua, ma ci spostiamo un po' verso nord per visitare Dinan. Dinan è una piccola cittadina che si è sviluppata tra il fiume Mosa e uno sperone di roccia sopra il quale si trova la cittadella, costruita nel 1500 all'interno di una fortificazione dell'undicesimo secolo. Il fiume Mosa viene usato spesso dai turisti per ammirare Dinan da un diverso punto di vista. E camminando lungo la Mosa o navigando su un vaporetto turistico si nota da subito l'imponente cattedrale di Notre Dame, costruita proprio a ridosso della collina rocciosa dopo che la vecchia chiesa è stata distrutta da una frana. L'interno della cattedrale è davvero imponente, con colonne altissime che ci fanno sentire piccoli e le vetrate policrome sono tra le più belle e più grandi in Europa. L'imponente fortezza sulla sommità dello sperone roccioso si raggiunge tramite una funicolare oppure salendo una gradinata di 408 gradini. È stata realizzata nel luogo dove l'anno 1000 era stato costruito il primo castello fortificato. Nel corso dei secoli la cittadella ha avuto un'importanza strategica per tutta la vallata. Un illustre cittadino di Dinan è Adolf Sachs, l'inventore dello strumento che porta il suo nome. E così è stata realizzata una bellissima mostra a cielo aperto che comprende 28 sassofoni di 3 metri distribuiti in tutta la città. All'ufficio turistico è possibile trovare una mappa che indica dove sono stati posizionati. Nella via titolata al suo famoso cittadino troviamo anche la casa di Sachs, che oggi è un piccolo museo, gestito da un'associazione che promuove progetti legati a questo fantastico strumento a fiato. Anche davanti al municipio ne troviamo uno in cristallo davvero bellissimo. Lungo la via principale del paese troviamo un piccolo basso rilievo che ricorda una triste pagina della storia di Dinan. E sulla via opposta del paese un monumento è stato voluto per non dimenticare che durante la Prima Guerra Mondiale le truppe tedesche e francesi si diedero a battaglia per giorni. Il culmene della battaglia si è consumato domenica 23 agosto 1914, quando i tedeschi fucilarono 674 civili innocenti, i cui nomi sono stati incisi all'interno del monumento in ferro. Alcune insegne ci ricordano che a Dinan c'è l'abbazia di Leffe, dove nel 1200 si è iniziata la produzione della birra a Leffe, oggi spostata all'Ovanio. A Dinan ci sono alcuni campeggi, ma noi abbiamo preferito lasciare il camper fuori dal centro, visto che i posti auto sono numerosi e gratuiti. Dopo una notte tranquilla nell'area di sosta, ripartiamo nella fitta nebbia del mattino diretti a Mons. Al mattino, qui in Belgio, c'è spesso nebbia o pioggia, ma con il passare delle ore il tempo migliora e con un po' di fortuna spunta anche un po' di sole. Arriviamo nel Grand Place di Mons e ammiriamo con piacere gli edifici che circondano la piazza. Purtroppo il municipio, costruito nel 1400, è ricoperto da un telo perché è in ristrutturazione. Attraversiamo la piccola galleria del municipio e arriviamo al giardino del sindaco, con la statua in bronzo di Ropié, che rappresenta un tipico monello di Mons dispettoso che sembra voler schizzare tutti i passanti. A pochi passi dalla Grand Place troviamo il BAM, o Museo di Belle Arti, in un edificio dall'aspetto contemporaneo, dopo una ristrutturazione che ha cambiato l'aspetto del museo del 1913. Dalla via pedonabile del centro si può ammirare il Beffroy, ossia la torre civica della città, alta 87 metri, patrimonio UNESCO. La costruzione della collegiata dei Santa Val de Trude è iniziata nel 1400 e terminata dopo 200 anni. È stata dedicata a Saint-Vaudreau, una nobile che si fece monaca nel 600 d.C., e fondò un oratorio sulla collina che diventò poi un'abazia, intorno alla quale si è sviluppata la città di Mons. In alto, sopra l'altare, si vede una cassetta dorata che contiene le reliquie di Saint-Vaudreau. E ogni anno, dal 1349, questa cassetta viene portata in processione per tutta la città, con il car d'or trainato da cavalli. Questa processione si tiene nei giorni della Ducasse de Mons, detta anche Doudou, una festa popolare di diversi giorni, anch'essa patrimonio dell'umanità. Il corpo di Saint-Vaudreau riposa in una tomba all'interno della collegiata che porta il suo nome. Passeggiando per le vie del centro di Mons, troviamo un colorato esempio di street art, una corrente artistica che si è sviluppata anche in molte altre città del Belgio. Passeggiando per le vie del centro di Mons.